Hanno atteso 40 anni gli abitanti della frazione Santa Maria di Montalbano e Licona, ma finalmente è stata avviata la gara per il consolidamento. Lo ha comunicato il governatore Nello Musumeci, che guida la struttura contro il dissesto idrogeologico nell'isola. Gli uffici, diretti da Maurizio Croce, hanno pubblicato il bando con scadenza il prossimo 10 settembre per un importo complessivo di 1 milione e 600 mila euro. La frazione di Santa Maria, a soli tre chilometri di distanza dalla cittadella medievale riconosciuta nel 2015 come borgo italiano più bello, presenta una situazione geomorfologica complessa che ora viene affrontata globalmente. Si chiude così il cerchio su una vicenda molto antica, risale infatti ai primi anni Ottanta il progetto dell'amministrazione comunale che non ebbe alcun seguito per la mancanza di risorse finanziarie. Nelle aree oggetto di intervento si è verificato in passato a causa di alluvioni, uno scivolamento del terreno che ha provocato gravi danni alle abitazioni e alle infrastrutture, oltre a seri pericoli per l'incolumità delle persone. L'opera consiste nella messa in sicurezza del versante mediante la realizzazione di un sistema di paratie con una profondità media di 20 metri. Previsti anche interventi di drenaggio tramite la collocazione di una tubazione in polietilene a doppia camera con fessurazioni per la captazione delle acque meteoriche e il rifacimento delle reti dei sottoservizi. Nei mesi scorsi, per stabilizzare l'area, la struttura commissariale è intervenuta sulla strada provinciale 119, una delle vie di accesso a Montalbano e Licona, e importante arteria di collegamento sulla quale erano caduti dei massi dal costone roccioso che sovrasta con Trada Santa Maria, ripristinandone la funzionalità e la piena sicurezza.